musica ben a tutti ragazzi io sono apple31299 e benvenuti in questo nuovo video oggi come potete vedere ci troviamo su minecraft 164 directwolf 20 quindi sulla ftb raga oggi voglio cominciare una nuova serie che farò o in single player o in multiplayer decidete voi magari in un commento qui sotto farò una serie sulla directwolf 20 che come sapete ha 142 mod e inizierò subito con non tanto con le mod un po' più tecniche ma con un mod tipo come la towncraft e l'art magical ah prima di iniziare tutto voglio fare una premessa mi voglio scusare se non ho caricato video per tipo 5 settimane o un mese dipende ma ho avuto da fare molto 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 con l'inizio della scuola mi sono dovuto applicare un po' di più e poi non ho potuto fare video neanche su iphone perchè mi è appena arrivato questo è il terzo iphone che mi è arrivato il primo dava un problema al tasto home che si bloccava e rimaneva premuto il secondo iphone faceva un rumore assurdo che sembrava una scorreggia alla vibrazione adesso fortunatamente non si sente più e questo è il terzo che è perfetto a mio preavviso e per il momento non ho ancora fatto il jailbreak perchè attendo appunto se nel caso da qualche difetto se nel giro di una settimana non mi da nessun difetto penso che gli comprerò le pellicole e gli metterò il jailbreak con ios 8 perchè voglio pronunciare che è uscito il jailbreak per ios 8.0 e ios 8.1 detto questo possiamo cominciare allora raga io non ho fatto neanche il mondo quindi dovrò iniziare tutto con voi creiamolo e lo chiamiamo sopravvivenza ragazzi non metto trucchi quindi vedete qui ok off metto la cesta bonus perchè altrimenti penso che da me potrei raccavezzare default, eh va, c'è una struttura? Si cancel e sono coglione off, cioè si default, ok, dun sopravvivenza ok, e creiamo il mondo raga penso che ci vorrà un po' per creare il mondo ma pazienza anche perchè il mio computer sapete che non è potente anche se fra poco mi dovrò comprare il pc da gaming ci sono tutte le caratteristiche tecniche del mio nuovo pc ovviamente sono soggette a cambiamenti ma non è quello l'importante ma detto pc ragazzi minecraft non risponde come del resto mi aspettavo cosa avrei mai evoluto da un pc ok glassblo ma dove cazzo mi ha sponato ragazzi mi ha sponato in un bioma di neve io come cazzo la truola ho un treat up ragazzi utilissimo due stick beh sì volendo ste cose le potevo fare anche io volendo signori io non butto niente come a mio solito manca la quarta torcia ma va bene lo stesso e senza inoltrarmi oltre oltre in italiano non so più parlare faccio subito alberi qualsiasi cosa anche se noto che non mi da ah ok già da accusi che io non noto ok raga ve lo dico le mie conoscenze di direct wolf 20 sono molto limitate quindi magari anche qualche suggerimento piccolo piccolo nei commenti ok sai vero che tra poco morirai mori bastardo non è che c'è la moto fermi tutti voglio no voglio tutti i miei cazzo di premio datemi li io sono un porco vagante che saltella dove si vedrà mai un porco che corre galleggiare tutto galleggia attenzione un altro maiale raga però c'ho pochissimo ma tipo anche la zampa è modificata no 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 sta moto c'è tutta la mia fottuta stima eh mori bastardo vai a tornare alle mie dimensioni naturali ah anche l'altezza no che cazzo ne racconto eh vaffanculo bastardo raga la mia intenzione non è di fare una casa fisica ma di fare una casa ai mondati ehm pistollo almeno con quello posso volare almeno di fare tipo una casa in montagna e penso che la farò qui cominciamo a farci una bella crafting table scusate se prima di tutto non guardo molto spesso la webcam ma tipo il mio computer è qui e la webcam è lì cosa proprio per problemi di spazio non più che altro ma sto anche tutto raffreddato quindi non so neanche chi è che mi dà la forza di fare i video ok cominciamo subito a fare una fottutissima pala di legno ovviamente perchè non ci possiamo permettere di meglio per il momento anche se penso che ci sia la power armor penso eh non voglio dire cazzate no aspetta ah raga c'è la power armor questo è buono a sapersi anche perchè voi non avete idea con questa moto cosa si può fare non ne avete idea ma almeno quella la so almeno quella è l'unica cosa più tecnica che farò oltretutto all'industria però penso che la M non la farò perchè non sono tanto portato per cos'è così difficile a meno che non mi date suggerimenti nei commenti ma no un fottuto piccuno mamma mia time to mine ok basta fare cazzate non so assolutamente cosa fare ragazzo video sarà molto corto più che altro per vedere come verrà se vi piace questa serie o non vi piace lo faccio solo per questo lo faccio e quindi sarà un video corto diciamo di dieci minuti e basta infatti siamo già otto minuti di registrazione per me già sono tanti adesso farò altri due minuti e basta sto per vedere com'è quindi un dieci minuti di video e basta l'importante è che cominciò già a farmi la casa porca miseria ma un amore sta casa ma proprio ma ma che ve lo dico fa ok mangiamo le costolette crudelone e facciamoci un piccone di ferri di co lo so perché non c'è un po' più sta merda facciamoci anche due fornaci sì vabbè proprio così appola uno posso fare tre di fornaci addirittura hot topic ok dove cazzo il mio piccone ok ok io andai ragazzi questa serie non è consigliata per bambini perchè è dirottante di quella parola c'è bestemmia che voi non avete neanche da poveri dio perchè ragazzi in questa serie c'è da sclerare tanto perchè esempio può capitare anzi capiterà sicuro di fare una cosa che tipo ci impieghi anni per farla alla fine te la cos'è sta roba ah ok si e poi la fine te la tolgono davanti come se fosse niente e poi lì c'è la bestemmia lì cinesa robaico carbone il culo assurdo della madonna ma noi sempre ferro ferro senza il ferro non possiamo fare niente guarda sederci ragazzi in dietro 20 non si sa neanche se il carbone è carbone e il ferro è ferro e se la torta è torta non si vede un pene non si vede un po' non si vede un po' ma non si vede un po' ragazzi a casa c'è anche un divisorio ma bellissimo bellissimo ci faccio le prime torce cazzo c'è un po' troppo che poi io quanto sono deficiente e non cosa cazzo le faccio e lo mi ha un po' la santa ci bocca ancora mi spune uno mob indirati dietami dentro casa e poi ci sono qua sotto a testa non vorrei ci sono quei point cosa sta roba no 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 bello troppo bello ragazzi non mi sbaglio ci dovrebbe essere la re minima per cosa cazzo c'hanno cos'è 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 un leggo no bellissimo lo voglio ah ma se non c'è la moderica no obelis bello bello e vieni qui maledetto bastardo fatti triturare la mia accetta no bellissimo da oggi in poi andrò in giro così no 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 non mi importa più niente no 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 basta andrò in giro così ho già perso casa no 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 è vero ok adesso ragazzi raccolgo questo mi finisco tipo di fare casa e sto con il video maledizio e andiamo mi dicevano c'è mi chiamavano deforestature elementare ok due porte almeno ci difendiamo dai mob stano si proprio così eh esatto ho detto qua no qua e qua la ora ci faccio anche dopo su qui magari la che ho già cominciato con la presupplita eccoci come l'argo del resto tipo se non vi ricordate vi metto uno spezzone qui tipo anche se non penso perchè tipo per subito ma è un altro dettaglio ok figlio di accoglio e accoglio questo carbone e e e e e e un pezzo di ferro a a fare la lui bene ragazzi per questo video è tutto spero che il mouse si muove da solo anche se ciò le mani alzate mamma mia paranormal mouse vabbè per questa serie è tutto per questo video è tutto e spero che il video vi sia piaciuto e che la serie di conseguenza vi piaccia così almeno la continuo e noi ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ragazzi io sono apple 399 e benvenuti in questo nuovo video oggi non siamo sul monitor ma pensi siamo in un video unboxing